Grande fratello VIP, Mirjana Trevisan, si difende da Soleil Sorge. Non sono così. Il grande fratello VIP si avvia tra dinamiche e polemiche alla finale, e visto che sono sempre meno i concorrenti in gioco spesso si ritrovano a parlare anche fazioni avverse. Uno dei rapporti che meno ha funzionato in questi mesi è quello tra Mirjana Trevisan e Soleil Sorge. Dopo la puntata, al mattino, le due si sono ritrovate a parlare e proprio la Trevisan ha voluto un po' smentire le tante accuse rivoltale. Dalla sorge nel tempo, io non ho mai sparlato, fuori vedrai che io non sono mai andata da nessuno a fare BBB su di te, non sono così. Soleil Sorge incredula al grande fratello VIP, Mirjana Trevisan, vedrò una compilation. Mirjana Trevisan dunque si è detta sicura di non aver mai sparlato al grande fratello VIP, in particolare di non aver sparlato di Soleil Sorge nonostante tra le due le cose non siano mai andate benissimo, e non siano mancati scontri anche violenti. Soleil Sorge dal suo canto non è troppo convinta che la Trevisan sia una che non sparla, e infatti la sua risposta piccata è tutta da leggere. A me non frega, ma secondo me, vedrò una compilation, e te la manderò punto. Mirjana Trevisan nel mirino delle critiche al grande fratello VIP, cos'è successo? Mirjana Trevisan ha vissuto una puntata difficile di grande fratello VIP per alcuni aspetti, tra cui le critiche ricevute dopo l'addio di Katia Ricciarelli, l'eliminazione della cantante lirica, ma più in generale gli atteggiamenti avuti nei suoi confronti da parte della showgirl, hanno fatto parecchio discutere in studio, e anche Sonia Bruganelli l'ha definita ridicola. Alfonso Signorini, dal suo canto, ha richiamato sia lei che Clarissa Selassie, che si è lasciata andare a pesanti dichiarazioni contro la donna.